La parola al sindaco. La parola al sindaco e l'inserimento di quartiere all'interno del progetto itinerario turistico religioso di Napolso. In via informale è stata comunicata l'accettazione della nostra richiesta che dovrà poi essere però proposta in delibera del Consiglio Comunale. C'è stata data la possibilità di inserire gratuitamente riferimenti, cartografia, foto, sulle brochure che sono in fase di stampa per poter partecipare all'evento azioni di promozione Santiago di Borgostetta per la settimana cruzese a Santiano che si terrà a Santiano di Borgostella dal 19 al 22 giugno. L'evento è sponsorizzato dalla regione Abruzzo e dalle quattro province. Il programma prevede la partecipazione in eventi ufficiali civili e bologiosi nella giornata di lunedì 20 e domenica 21. È previsto uno spazio espositivo per la promozione turistica dei propri luoghi, dei prodotti edifici, del prodotto artigianale e di quello agroalimentare. Io personalmente in amministrazione intendiamo che sia un'opportunità da non perdere. Naturalmente le spese di viaggio e permanenze sono a carico dei partecipanti. Io invito i consiglieri che fossero interessati a prendere visione del programma delle opportunità di viaggio e permanenze offerte dall'agenzia organizzatrice in quanto abbiamo tempo solo fino al mese per la prenotazione. Per cui se qualche consigliere è intenzionato o vuole partecipare o prendere visione del programma è pregato di farlo in questi giorni. Grazie. Non posso chiedergli una cosa? No, non posso chiedergli una cosa? Dalla sua pubblicazione viene poi una natura impersonale del tutto. C'è culto e cultura chi è? E poi i carini di San Diego sono quelli di vera. Culto e cultura è il nome dell'associazione del programma di scopo. No è nessun nome, non è che ha qualche altro... possiamo capire lo scopo, ma chi vuole per sé? Allora, lo scopo questo fa parte di... Ma chi è? Comunque, quali comuni ci stanno? Allora, ci stanno. Se volete vi do tutto la porzione, dove ci sono tutti i comuni, Ranciano, Ortona, Orsogna, tutto il turismo religioso, tutto il percorso del turismo religioso. E questo fa capo, questo fa capo il percorso dell'apostolo Santo Mozzo. E sarebbe sconsorezzato pure l'opera romana per i ritaggi? No, no, non c'è già niente. Non c'è già niente. E' quella cosa sta dicendo tu? No, ti capisco che lo dico io. Questa è una visione di tutti. E' un po' di cosa dà. Se ce l'hai, non ce l'ho fatto, la visione di tutti i tuoi. Ma, scusate, i comuni sono Larvina, Chiedi, Terra, Pescara, Summona, Vasto, Cissi, con Deodorisica, se l'affrontiamo Ranciano, Pescara, costolano quello che sarà due in più, Pianchi, con Sogni. Tutto è martinologio? Tutto è martinologio? Tutto è martinologio? C'è, ma c'è, ma c'è, ma a 4 maggio. Guardia Gritta e Pesca. Grazie. Grazie. Grazie.